Carissimi amici di Rete Biella, desidero rivolgere a tutti quanti un augurio di buon anno nuovo. Siamo ormai nelle ultime ore di questo anno 2021 che si sta chiudendo alle nostre spalle e già vediamo l'alba di un nuovo anno. Come è giusto, quando si saluta l'inizio di un nuovo tempo, tutti noi vogliamo presentarci all'appuntamento con il cuore colmo di speranza. Così come dice, è un antico proverbio, abbiamo davanti cose di gran lunga migliori di quelle che ci siamo lasciati dietro, che ci siamo lasciati alle spalle. Ed è con questo sentimento allora che saluto quanti ci seguono, che ringrazio e saluto l'emittente, la direzione, la redazione, anche per il servizio prezioso che fa quotidianamente di informazione del nostro territorio. Sto imparando anch'io a conoscerlo e certamente è un grande aiuto, mi viene dato proprio da quello che quotidianamente viene fatto di lavoro, di cronaca, di indagini, di richiedi, anche presenza sul territorio da parte della televisione. E allora un augurio di un buon anno, sappiamo che problemi ce ne sono, ma i problemi quando si avvertono, quando uno li considera che ci sono, in qualche modo è già sulla strada anche per poterli risolvere, sarebbe un guaio e far finta di niente. Noi siamo di quelli invece che vogliamo, come dire, stare, vivere all'interno della storia. Auguri di buon anno a tutti quanti.